E' chiaro che in quel caso metti a rischio la vita dei salvatori. Ma non è un problema la vita dei salvatori. Che è la prima che va tutelata, poi eventualmente quella dei disperati. Ma in un secondo momento, tu disperato devi chiedere di cosa posso fare io per i salvatori e non sempre cosa possono fare i salvatori per me. Ma cosa stai dicendo? Allora vede che il problema è l'irresponsabilità dei disperati. Ogni tanto mi decontestualizzo e mi ritaglio delle frasi agghiaccianti. Questa volta ti sumai, ma ripeto, le subisco.